Buonasera, benvenuti, è un piacere vedervi così numerosi. L'argomento che si tratta oggi è quella della trasmissione dei dati sanitari al sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione precompilata, fa parte di una serie di operazioni predisposte dal governo ai fini di cambiare la modalità in cui si pagano le tasse, tutti i cittadini pagano le tasse, è un adempimento già in vigore nell'ambito della professione medica da un anno e adesso si allarga a una serie di professioni sanitarie tra cui la nostra che indipendentemente dall'iter del DDL Lorenzin viene considerata già tra le professioni sanitarie anche perché noi facciamo prestazioni sanitarie. È un adempimento dal punto di vista tecnico la dottoressa Rizzato, la nostra consulente di lungo corso che in maggioranza di voi conoscerà già, ci spiegherà, quindi le parti tecniche verranno ampiamente spiegate nell'ambito di questo seminario che è il primo che viene fatto specificamente su quest'ambito, quindi siamo molto felici di aver dato un servizio agli iscritti che ha avuto così tanto riscontro e che evidentemente va a cogliere un problema nel momento in cui questo problema si viene a porre, cerchiamo di essere sul pezzo, cerchiamo di essere nell'attualità e vicini ai colleghi, questo è il nostro sforzo. Vi ricordo soltanto che per qualunque necessità, qualunque bisogno l'ordine è a lavorare per voi e siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento, contattateci, cercateci, proponeteci le vostre idee per attività, per necessità che vi trovate a incontrare nella vostra pratica professionale e noi troveremo un modo per dare seguito a tutto quello che si può fare per migliorare l'esperienza professionale di tutti gli psicologi nella regione del Veneto. Vi ringrazio ancora di aver partecipato e vi lascio a Barbara Rizzato con la trattazione dell'argomento e per qualsiasi cosa rimango a vostra disposizione anche al termine dell'evento. Buona continuazione, buon seminario e grazie. Bene, allora rompiamo gli indugi e vediamo subito di che cosa parliamo oggi. Qual è il programma del nostro pomeriggio? Allora, io qua vi ho messo una piccola traccia di lavoro, cioè cerchiamo di andare a rispondere un po' a tutti i quesiti che mi sono anche stati posti in questi ultimi giorni da quando abbiamo avuto contezza di questo nuovo obbligo. Quindi andiamo a vedere quali sono i soggetti obbligati, qual è la procedura di registrazione per chi non l'avesse ancora fatta, quali sono le scadenze da tenere a mente, che cos'è questo obbligo, in cosa consiste e quali dati quindi ci verranno richiesti ai fini della trasmissione, le varie opzioni sulle modalità operative che dovremo seguire. parleremo anche di privacy e di possibilità di opposizione da parte del paziente rispetto alla trasmissione dei dati e poi cercheremo un po' di rispondere già a quelle che sono le domande più frequenti che vengono poste, di fare qualche ragionamento sugli aspetti più critici. Magari vi do anche un paio di suggerimenti pratici per agevolare l'adempimento. Poi vabbè, in chiusura è doveroso parlare di sanzioni, però insomma in maniera molto serena vorrei dire, e anche di quella che insomma è stata venduta come una novità sullo spesometro che insomma poi, vabbè, faremo qualche considerazione anche su questo alla fine. Vi dicevo poc'anzi che il seminario di oggi pomeriggio è videoregistrato, quindi è sì in diretta ma potrà essere fruibile la registrazione anche in un momento successivo e le slide che oggi vediamo insieme saranno comunque pubblicate sul sito dell'ordine, la segreteria le ha già, quindi verrà fatto praticamente nell'immediato. Quindi sapete che poi, magari senza affannarvi a prendere grandi appunti, mi interessa più che altro che voi seguiate un po' i ragionamenti che oggi facciamo insieme, poi gli appunti ve li trovate già scritti. Allora, quali sono intanto i soggetti obbligati? Diciamo che il presupposto è la fatturazione diretta ai pazienti, quindi vuol dire che, intanto quando parliamo di fatturazione vuol dire che parliamo di un soggetto titolare di partita IVA, chi non ha la partita IVA ovviamente non ha nessun obbligo, non può neanche fare la registrazione perché la partita IVA non ha dei richiesti per la registrazione nel sistema e l'altro presupposto è che ci sia un svolgimento di un'attività sanitaria fatturata direttamente ai pazienti, quindi in un rapporto contrattuale diretto con il paziente. Giusto per dovere di cronaca, diciamo che questo obbligo è stato introdotto per la prima volta con riferimento all'anno di imposta 2015, quindi parliamo dell'anno scorso, e i primi a cimentarsi con questo nuovo adempimento sono stati gli iscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri, le strutture sanitarie accreditate e le farmacie. Nel 2016 c'è stata appunto un'estensione, in primi se sembrava solo le strutture sanitarie autorizzate perché queste erano già state introdotte come nuovi soggetti che avrebbero dovuto appunto confrontarsi con questo obbligo nella legge di stabilità di inizio anno, quindi diciamo che le strutture sanitarie autorizzate hanno giocato un po' di anticipo, hanno potuto magari organizzarsi un pochettino più per tempo di quello che noi possiamo fare oggi, però poi gioco forza con la fine dell'estate ci siamo trovati il decreto che ha esteso anche ad altre professioni sanitarie, tra cui gli psicologi, l'obbligo già con decorrenza dal 2016 e quindi vuol dire con decorrenza dal 1 gennaio 2016, a prescindere dal fatto che il decreto sia un decreto di settembre di quest'anno. Quindi quest'anno obbligati anche gli psicologi, gli studi associati ovviamente di psicologi e poi vabbè altre professioni sanitarie, non ancora tutte, però veterinari, ottici, infermieri, ostetrici, insomma ci sono, siamo in buona compagnia. Un primo dubbio lo chiariamo subito rispetto alla registrazione, perché in questi giorni tanti mi hanno chiesto, ma io non devo fare nulla perché di fatto non devo comunicare dati, non faccio attività sanitaria, oppure la faccio ma non fatturo io direttamente ai pazienti, non so se un domani mi capiterà di fatturare direttamente ai pazienti, cosa faccio, mi registro o non mi registro? Allora, la registrazione al sistema tessera sanitaria e quindi la richiesta di credenziali per poi far l'adempimento è funzionale all'adempimento, quindi chi non ha l'obbligo di trasmettere non ha l'obbligo neanche di registrarsi. Ciò non toglie che ovviamente chi si è già registrato a scopo così cautelativo, va benissimo, ha delle credenziali che al momento non utilizzerà, le tiene nel cassetto per quando eventualmente un domani dovessero servirgli, niente di più di questo. Chi non l'ha ancora fatto proprio perché pensava di non avere l'obbligo, va benissimo uguale, lo farà se del caso nel momento in cui la registrazione effettivamente nel suo caso specifico diventa necessaria perché cambia diciamo la struttura, il tipo di svolgimento della sua professione. Quali sono quindi alla fine, detto tutto questo, i soggetti esonerati? Sono gli psicologi che non hanno partita IVA, gli psicologi che fatturano solo a strutture sanitarie, hanno un rapporto di collaborazione con ambulatori, poliambulatori, cooperative, quindi di fatto fanno la fattura all'ente terzo che è lui che poi fa la fattura direttamente al paziente e quindi è quella struttura che comunicherà i dati e non voi direttamente, gli psicologi che non svolgono attività in ambito clinico e anche gli eredi degli psicologi non hanno un obbligo, sono stati previsti tra i soggetti esonerati. Qual è la procedura di registrazione? Non è che dico eredi, tutti vocifrano, tutti fanno scongiuri, vedo, per dovere di cronaca io dico tutto, no? La procedura di registrazione. Allora, diciamo che abbiamo detto che è obbligatoria solo per chi è tenuto la trasmissione dei dati, per le altre facoltativa, se è stata fatta abbiamo detto che non serve, abbiamo detto che non succede nulla, andava fatta, perché ormai siamo a novembre, entro il 31 ottobre del 2016 per chi aveva l'obbligo, questo in fase di prima applicazione del nuovo obbligo. Allora, dico subito per chi non l'avesse ancora fatta ma che comunque è tenuto a farla, che la fa domani mattina e non succede niente, non c'è applicazione di sanzioni, è una data che è stata indicata a livello ministeriale per consentire al sistema tessera sanitaria di avere il tempo necessario a fare le verifiche sui dati che voi comunicate in sede di registrazione e poter avere quindi il tempo utile per attribuirvi le credenziali che poi serviranno per l'accesso all'area riservata in tempo utile per far l'adempimento. Quindi è meglio non dormirci sopra perché non è una richiesta di credenziali che ha una risposta immediata, infatti adesso magari profittiamo della platea ampia, però credo che nessuno di voi abbia ancora ricevuto le credenziali. Benissimo, la registrazione viene fatta, arriva nell'immediato una PEC di riscontro dell'avvenuta registrazione e poi rinviano ad una PEC successiva la comunicazione delle credenziali di autenticazione. Quindi la PEC dovete continuare a controllarla, non solo per questo ma perché è buona norma a tutti anche gli altri scopi. Comunque diciamo che io non ho la sfera di cristallo, non ho conoscenze nelle altre sfere, ma credo che entro la fine del mese di novembre le credenziali arriveranno, insomma mi pare abbastanza ovvio. In ogni caso non allarmatevi o non preoccupatevi di un eventuale ritardo, nel senso che se voi avete avuto la mail di riscontro dell'avvenuta registrazione, il sistema tessera sanitaria in ogni caso vi manderà una seconda PEC, che sia per darvi le credenziali perché ha verificato i dati, li trova coerenti con quelli che sono stati comunicati dall'albo ai ministeri competenti, che sia perché non riesce a darvi le credenziali perché c'è qualche dato incoerente. Comunque vi manda una PEC di esito negativo dell'attribuzione delle credenziali e quindi lì cercherete di capire qual è il problema. Speriamo che siano problemi limitati, d'accordo? Quindi una volta ottenute le credenziali, questo ovviamente a cosa serviranno? Serviranno ad accedere all'area riservata del sistema TS. Per chi ancora non ha fatto la registrazione, io vi ho indicato il link dove potete andare a fare l'accesso diretto per la registrazione e vi ho anche riproposto una schermata di quello che viene richiesto in fase di registrazione, quindi alla fine se voi andate a vedere non sono dati trascendentali, vi chiedono la vostra partita IVA, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, dietro la vostra tessera sanitaria sul retro in basso c'è un numero, quello è, la scadenza indicata a fianco al numero della tessera sanitaria, l'indirizzo di posta elettronica certificato che va ovviamente scritto due volte per la verifica della PEC, la data di iscrizione all'albo, il numero di iscrizione e la regione. Fatto questo la data di cessazione dell'iscrizione all'albo ovviamente solo per chi nel frattempo si è cancellato, per gli altri ovviamente è un campo che non viene compilato. Fatto questo la registrazione avviene con successo, quindi senza problemi particolari. Nel caso in cui ci sia qualcuno di voi che debba fare la registrazione per uno studio associato, lo studio associato si deve registrare tramite il legale rappresentante, vuol dire che la partita IVA indicata sarà quella dello studio associato, il codice fiscale del richiedente sarà appunto il codice fiscale del legale rappresentante e quindi sarà la sua tessera sanitaria, il suo numero di tessera sanitaria e via dicendo. Poi comunque i dati sono abbinati alla partita IVA di chi ha emesso le fatture, quindi dello studio associato in fase di trasmissione. Quale sarà la scadenza al di là di quella ormai passata del 31 ottobre prossima della quale dobbiamo preoccuparci? Diciamo che la scadenza a regime è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi per il 2016 e il 31 gennaio 2017. Tenete presente che la trasmissione dei dati può essere fatta anche con una periodicità diversa, cioè non è che dobbiamo aspettare necessariamente che l'anno sia chiuso, lo si può fare quotidianamente, lo si può fare settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, cioè uno fa come, si organizza come meglio crede e sa che comunque ha questa data ultima che è quella del 31 gennaio dell'anno seguente. Quindi poi al di là magari di una difficoltà iniziale che può caratterizzare quest'anno, perché ormai siamo già a novembre e quindi ci troviamo già con un numero consistente magari di fatture da dover registrare, sappiamo che a regime possiamo organizzarci in maniera magari un po' più agevole facendolo poco per volta, mettiamola così. Ma che cos'è che dobbiamo fare e perché dobbiamo farlo? Perché tanti si saranno anche fatti questa domanda. Noi dobbiamo trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria, quali dati? Quelli relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti e che sono detraibili fiscalmente in dichiarazione. La logica è che il governo sta investendo ormai da qualche anno su questo nuovo modo di gestire la dichiarazione dei redditi, cioè si vuole mettere nelle condizioni il cittadino di poter fare la dichiarazione dei redditi da solo, senza aver bisogno di ricorrere ad un CAF, ad un commercialista e a dover pagare per pagare le tasse. Quindi la logica qual'è? Acquisisco da tutti i soggetti che pagano compensi, danno diritto a redditi, fanno sostenere delle spese, tutti i dati che vanno a finire nella dichiarazione dei redditi e li acquisisco d'ufficio in automatico da tutti questi soggetti in maniera che ogni cittadino se entra con le sue credenziali, quindi le credenziali del fisco online nel sito dell'agenzia delle entrate e accede alla sua dichiarazione dei redditi, trova già dei dati lì indicati. Ovvio che è una procedura che ci vorrà del tempo perché vada effettivamente a buon fine e che la dichiarazione dei redditi precompilata sia una dichiarazione di fatto completa. Oggi è ancora una dichiarazione fatta a metà dove bisogna andare a inserire e aggiustare i dati che si trovano inseriti all'interno, magari anche controllarli perché poi se chi comunica comunica sbagliato non è che mi metto al riparo da problemi, quindi in ogni caso il cittadino deve fare comunque un'operazione di verifica, di integrazione e via dicendo. Però è per capire qual è la razza di questa normativa, cioè i vostri pazienti nel momento in cui vogliono farsi la dichiarazione da soli entrano con credenziali nel sito dell'agenzia delle entrate e trovano già le spese che hanno sostenuto da voi già caricate tra le spese sanitarie nella loro dichiarazione dei redditi. Apro una parentesi poi su questo torniamo, ma è ovvio che quindi questo vuol dire che se guardiamo bene da un punto di vista di privacy, cioè il cittadino non è che lascia incautamente le sue credenziali per l'accesso al sito dell'agenzia delle entrate su imposti che sono inadeguati, diciamo così e quindi è ovvio che di fatto l'unico che poi effettivamente va a vedere i dati che sono all'interno della sua dichiarazione è il cittadino stesso, il vostro paziente, se li vede qualcun altro è perché lui ha dato le sue credenziali a qualcun altro, quindi insomma anche su questo vorrei dire stiamo abbastanza sereni. Il fatto che noi dobbiamo comunicare spese sanitarie detraibili vuol dire che dobbiamo stare attenti a due aspetti in particolare, al criterio di cassa perché le spese sono detraibili se sono state pagate nell'anno, quindi noi dobbiamo comunicare solo le spese sostenute dal paziente, quindi pagate, saldate entro la fine dell'anno e dobbiamo stare attenti alla tipologia di spesa, una docenza non la devo comunicare, una supervisione non la devo comunicare, un'attività legata alla psicologia del lavoro non la devo comunicare, quindi devo comunicare solo ciò che posso ritenere una spesa sanitaria detraibile in dichiarazione dei redditi, poi magari facciamo anche degli esempi più concreti successivamente. Quali sono le modalità operative per appunto porre in essere questo nuovo adempimento? Le scelte fondamentalmente sono due, o faccio l'invio diretto, io come professionista, quindi l'invio diretto a cura dello psicologo tramite accesso al sito sistema tessera sanitaria con credenziali nell'area riservata, quindi entro nell'area riservata, faccio proprio se io entro nel sito sistema tess, clicco su area riservata, ho varie modalità di accesso all'area riservata, vado sulla modalità accesso con credenziali, quando avrò le credenziali ovviamente inserisco le mie credenziali e mi si apre la possibilità di fare la trasmissione dei dati, oppure nel momento in cui io non voglio farlo come invio diretto posso delegare un intermediario, il commercialista fondamentalmente, posto che abbia voglia di farlo. Per l'invio diretto, passatemi la battuta, per l'invio diretto, quindi l'invio diretto a cura direttamente del professionista. Due di nuovo sono le opzioni, io anche qui per dovere di cronaca ve le ho messe entrambe, però vi dico la verità che credo che nella vostra professione ci dobbiamo fermare alla prima. La prima è data entry di ogni singola spesa e questa è un po' la scocciatura perché vuol dire che io ogni volta che quando devo fare la trasmissione dei dati devo inserire una a una le fatture, non è che posso mettere dei dati aggregati, quindi mi chiederanno tutta una serie di dati di ogni singola fattura e devo andare a inserirle una alla volta per singolo documento. L'altra opzione che il sistema tessera sanitaria mi consente anche eventualmente con invio diretto, quindi io come professionista, è quello di utilizzare un software, il mio software magari gestionale di studio, mettiamola così, però capite bene che nello studio di uno psicologo è un po' difficile avere un gestionale di studio, che dialoga in web services con il sistema tessera sanitaria e che va seguendo le specifiche tecniche che sono state approvate con DM a fare una comunicazione dei dati in qualche modo come dire li prelevo dal programma di parcellazione o di contabilità e li travaso nel sistema tessera sanitaria. È ovvio che se nessuno ha un programma di parcellazione che ha queste specifiche tecniche o un programma di contabilità che ha queste specifiche tecniche, credo che ce ne siano pochi, devo dire la verità, di psicologi che sono strutturati in questo modo, rimangono solo con l'opzione A, data entry di ogni singola spesa. E facciamo, ce n'è una ragione, d'accordo? Nel caso invece di delega al commercialista, che cosa bisogna fare? Allora, intanto il commercialista deve essere un soggetto abilitato, Entratel, quindi un intermediario abilitato per la trasmissione anche, per esempio, delle dichiarazioni dei redditi. La delega è un atto formale, vuol dire che non è un atto che riguarda il rapporto fiduciario tra voi e il vostro commercialista. Deve passare per il sistema tessera sanitaria e quindi va conferita accedendo all'area riservata del sistema TS. Io vi ho messo anche qui il percorso. Dovete fare l'accesso con credenziali, attivare la funzione gestione dati spesa 730 e poi cliccare su deleghe. Nel momento in cui voi cliccate su deleghe, vi vengono richiesti dei dati, cioè i dati di chi volete delegare. Quindi, intanto questi dati dovete chiederli eventualmente al vostro commercialista, d'accordo? Perché non mettete dati dicendo, ah ma tanto li so e li scrivo, perché magari voi pensate che siano quelli e lui invece l'abilitazione entra e ce l'ha con altri, quindi chiedeteglieli. Comunque, quali sono questi dati? Sono tre. L'indirizzo PEC del commercialista, il suo codice fiscale e il codice sede. Guardate che il codice sede al 99,9% è un codice 000, si mette così convenzionalmente. Chiedeteglielo perché magari ha più sedi, più studi, ha attribuito un codice sede diverso e quindi va indicato un codice diverso, però nella stragrande maggioranza dei casi sarà così. Una volta fatta la procedura di delega, che cosa avviene? Che il sistema tessera sanitaria invia in PEC una comunicazione al vostro commercialista e gli dice che voi avete voluto delegarlo a questo adempimento. Lui a quel punto può ovviamente accettare l'incarico e la delega si perfeziona con l'accettazione dell'incarico e se non lo accetta, non lo accetta e non si perfeziona niente. Quindi dovete essere tranquilli che sia chiusa la procedura di accettazione della delega e sapete che poi quella delega avrà una validità infinita, nel senso che finché non andate a revocare la delega o lui non rinuncia alla delega, comunque la delega rimane sempre operativa anche per gli anni successivi. La revoca ovviamente la potete fare sempre con la stessa funzione, quindi sempre entrando dentro la gestione delega e del sistema tessera sanitaria e andando semplicemente troverete l'attivazione del vostro commercialista e c'è anche la possibilità di dire revoca. Il giorno che non volete più che lo faccia lui lo potete sempre revocare. Quali dati vanno comunicati e quindi quali dati dovete diciamo avere a disposizione per far l'adempimento? Diciamo che ovviamente sono i dati che vi vengono chiesti dal sistema nel momento in cui voi pensate di gestirlo direttamente, quindi entrate nella maschera del sistema tessera sanitaria e vi dicono caricami questi dati. Allora, intanto la vostra partita IVA, quindi per ogni documento vi chiedono di indicare la vostra partita IVA, primo punto. Poi il codice fiscale del paziente, allora attenzione perché qua i codici fiscali sono importanti, se io sbaglio l'imputazione di un codice fiscale o il codice fiscale non ce l'ho, il dato non parte. Quindi devo necessariamente sincerarmi di avere tutti i codici fiscali dei pazienti e di averli anche corretti. Da questo punto di vista, secondo me diventa una buona prassi operativa quella di tenere una copia dei codici fiscali dei pazienti, copia del tesserino sanitario. Anche una foto, non è che dobbiamo avere la fotocopiatrice in studio. Facciamo una foto e teniamocela agli atti perché se per caso anche in fase di trasmissione dei dati c'è qualche anomalia, qualche rifiuto nella trasmissione perché mi dice che c'è un'incoerenza sul codice fiscale del paziente, faccio presto a verificare direttamente sul codice fiscale, sulla copia del codice fiscale, se c'è un problema o no o se semplicemente è un'anomalia, come qualche volta capita, legata a un doppio nome di cui non si è tenuto conto nell'attribuzione del codice fiscale, a un luogo di nascita strano o a cose di questo tipo perché sono cose che possono capitare. Data e numero del documento, quindi la parcella, la ricevuta sanitaria, la fattura, chiamiamola come vogliamo, è sempre la stessa cosa, il numero che le abbiamo attribuito e la data del documento. Non solo, dobbiamo inserire anche la data del pagamento. Allora per chi fa, ha l'abitudine sicuramente buona, vorrei dire, di far la fattura all'incasso del compenso, va benissimo, ci sarà sempre corrispondenza tra le due date. Chi fa le fatture prima e magari incassa dopo deve stare attento a indicare la data di incasso perché diciamo che poi alla fine se siamo nello stesso anno d'imposta cambia anche poco, ma se per caso sforiamo nell'anno successivo invece diventa rilevante i fini della trasmissione dei dati, quindi data del documento e data del pagamento. Ovviamente, questo lo dico per dovere di cronaca, non potrà mai essere che comunicate una data di pagamento antecedente alla data del documento. È chiaro questo perché state facendo una cosa che non si può fare. La data del pagamento può essere contestuale all'emissione del documento o successiva, non potrà mai essere viceversa. Importo della spesa totale sostenuta dal paziente, totale l'ho messo in grassetto, non potevo metterlo in lampeggiante, allora l'ho messo in grassetto, totale vuol dire ma cosa faccio? Il bollo lo metto, non lo metto l'iva, il cipia, tutto quello che hanno speso, va bene? La spesa complessiva. Sul bollo facciamo una precisazione, è ovvio che se io riaddebito la spesa del bollo e quindi il paziente me lo rimborsa, allora ci metto anche il bollo. Se non riaddebito il bollo, lo appiccico sull'originale che gli consegno, ma di fatto lo pago io e rimane a carico mio, allora non devo indicarlo. Numero dispositivo, anche qui, allora io qua sto facendo una supposizione se devo dire la verità, perché siccome nessuno ha ancora le credenziali, non sono ancora entrate, quindi non è che ho la sfera di cristallo per sapere che dati vi chiederanno, però diciamo che ritengo di poter presumere che vi chiederanno i dati che oggi chiedono i medici, perché non ci sarebbe ragione per chiederveli diversi. Questi sono i dati che l'anno scorso hanno chiesto i medici. Numero dispositivo, è un numero convenzionale, in realtà l'hanno messo per dire dispositivo, registratore di cassa, per le farmacie, per magari chi ha sistemi di fatturazione particolare negli ambulatori e vi dicendo convenzionalmente per i liberi professionisti che fanno la classica fattura è uno per tutti. Comunque quando si apre la maschera con la compilazione ci sono dei punti di domanda con appunto anche i chiarimenti rispetto a quelli che possono essere il numero dispositivo che va sul punto di domanda e in realtà la maschera lo dice. Tipologia di spesa, SP, sempre. Per voi sarà sempre il codice SP. Ci sono codici diversi che vanno caricati in funzione delle diverse professioni e prestazioni svolte e nel caso degli psicologi sono sempre prestazioni sanitarie da indicare col codice SP. Basta, altre cose non ci chiedono. Ragioniamo adesso su un aspetto che vorrei dire è forse il più sentito, almeno insomma chiacchierando con alcuni di voi, vedendo le domande che sono arrivate all'ordine in questi ultimi mesi, vedo che il problema più sentito è proprio quello della privacy. Ho visto tante elevate di scudi, tanta gente iniziare a dire ma come? Io comunico i dati dei miei pazienti all'agenzia delle entrate, ma e se loro non sono d'accordo, no? È un po' questo, diciamo così, la preoccupazione più grande. Il che devo dire la verità, non dovrei dirlo perché mi videoregistrano, però vi fa onore perché vi assicuro che io che ho parlato di questi argomenti l'anno scorso con i medici, ma credo che in pochi abbiano sollevato il problema della privacy, in tanti hanno brontolato per l'adempimento nuovo, ma insomma invece gli psicologi su questo hanno una sensibilità forse diversa e effettivamente è un problema che è stato molto sentito. E allora cerchiamo di capire che cosa succede sotto il profilo privacy. Ovviamente partiamo dal presupposto che è una normativa che siccome comunque di per sé è ovvio che è invasiva in qualche modo del diritto alla riservatezza, è passata per il filtro del garante della privacy che ha già espresso pareri, ha già previsto quali sono le procedure, quindi insomma è già stato diciamo valutato in altre sedi che cosa bisognava fare per comunque garantire la riservatezza dei pazienti. E vediamo che cosa è stato pensato per garantire questa riservatezza. Allora il paziente può opporsi alla trasmissione dei dati facendo una richiesta praticamente espressa al professionista, però lo può fare solo dal 14 novembre 2016. Questo cosa vuol dire e perché il 14 novembre 2016? Perché di fatto il paziente per il periodo precedente non può manifestare la sua posizione direttamente al professionista. Il professionista è quindi tenuto comunque a fare la trasmissione dei dati sanitari fino a quella data e eventualmente l'opposizione potrà essere fatta e sperita con una procedura separata fatta direttamente dal paziente e vedremo poi come. Quindi questo intanto in premessa, tanto per rispondere al dubbio che a tanti è venuto ma cosa faccio con tutti i pazienti che ho visto fino adesso di cui magari non ho neanche più traccia, con i quali magari non sono neanche più in contatto. Allora, l'opposizione abbiamo detto può essere manifestata solo a partire dal 14 novembre del 2016. Il 14 novembre semplicemente perché è la scadenza dei 60 giorni della cosiddetta vacazio legis da quando è entrato in vigore il decreto. Quindi hanno voluto dare, come è normale che sia, 60 giorni di tempo ai professionisti per organizzarsi perché se no voi cosa facevate nel frattempo non sapevate come. Infatti oggi ci troviamo prima del 14 novembre perché sappiamo che fino ad oggi nessuno ci poteva chiedere nulla. Dal 14 novembre in poi se un paziente si oppone alla trasmissione che cosa bisogna fare? Bisogna annotarlo su entrambe le copie, quindi quella che viene consegnata al paziente e la nostra. La richiesta è una richiesta che deve essere fatta in forma meramente verbale, quindi non dovete chiedere al paziente di rilasciarvi una richiesta scritta, non potete neanche farlo perché per legge è previsto che sia sufficiente la richiesta di carattere verbale. Dovete quindi annotarlo sulla fattura e a quel punto lì quella fattura viene esclusa dalla trasmissione al sistema tessera sanitaria. L'annotazione che ovviamente potete fare anche con un timbro per non dover fare fatica a scrivere ogni volta il riferimento normativo è quella che trovate in questa slide, fattura non trasmessa al sistema tessera sanitaria per opposizione del paziente ai sensi dell'articolo 3 del DM 31 luglio 2015 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 196 del 2003 che è il codice sulla privacy. In realtà non è richiesta per DM la firma a margine della notazione da parte del paziente, io però se devo dire la verità vi suggerisco di farvela mettere perché è un problema di prova, cioè di vostra tutela, chi è che dice, perché sennò uno annota su tutte che il paziente non vuole la trasmissione e un domani il paziente dice ma chi ti aveva detto di farlo? Tu me l'hai scritto e mi hai messo la firma, quindi al di là del fatto che nel decreto ministeriale dicono non serve chiedere firme, basta una richiesta verbale, basta l'annotazione sulla fattura, io dico va bene però tutela mia, mi faccio controfirmare l'annotazione del paziente anche con una sigla giusto perché così non ci siano problemi un domani. Questo per quello che succederà dal 14 novembre 2016 in poi, diciamo per sempre, l'anno prossimo, tutto l'anno e quello a venire ancora. Nel caso invece di opposizione da parte del paziente alla trasmissione delle spese sostenute prima del 14 novembre 2016 e comunque anche nel caso in cui il paziente decida di opporsi alla trasmissione in un momento successivo, gli avete fatto la fattura, non ha detto niente, poi ha un ripensamento e gli viene in mente che vuol fare l'opposizione. A quel punto lì non può più dire niente a voi e non poteva dirvelo prima perché comunque prima del 14 novembre abbiamo detto che non poteva chiedere e pretendere che la trasmissione non venisse fatta. E allora che cosa potrà fare? Il paziente può in ogni momento, successivo ovviamente all'erogazione della prestazione e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo, e questo lo potrà fare tutti gli anni, anno per anno, accedere al sito del sistema tessera sanitaria, far l'accesso con la propria tessera sanitaria oppure con le credenziali del Fisco Online, le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, però sempre accesso nel sistema tessera sanitaria, andare a selezionare le spese che non vuole che vengono conservate dal sistema tessera sanitaria e dall'Agenzia delle Entrate, le seleziona tutte, solo alcune, e le cancella, o meglio, chiede che vengano cancellate. Il sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione. Questa è una prima opzione. È un'opzione, diciamo, che è possibile a regime, sarà possibile sempre, e, appunto, è un'attività che deve fare autonomamente il paziente, nella quale voi non centrate assolutamente niente. C'è una seconda alternativa, però è valida solo per l'anno 2016 e fino al 31 gennaio 2017, ovvero il paziente può manifestare la propria opposizione direttamente all'Agenzia delle Entrate, quindi deve dire quali, deve specificare quali dati, anche dati aggregati, quindi tutte le spese dello psicologo, oppure tutte le spese sanitarie, oppure le spese dello psicologo e quelle del dentista, ma non quelle del medico specialista. D'accordo? Può manifestare una scelta di questo tipo e comunicare all'Agenzia delle Entrate che non vuole la conservazione sui supporti dell'Agenzia di queste spese. Facciamo dopo. Come si fa questa richiesta? O tramite posta elettronica, banalmente, o telefonando al centro di canale, nel centro, praticamente, il numero verde dell'Agenzia delle Entrate, oppure recandosi in un qualunque ufficio territoriale e compilando una modulistica specifica. Io devo dire la verità che anche questa slide l'ho messa per dovere di cronaca e di completezza, però secondo me lascia un po' il tempo che trova. È meglio sicuramente l'altra procedura, che poi è una procedura che in ogni caso ogni cittadino potrà esperire anno per anno, quindi accesso al sistema tessera sanitaria, perché così anche ho già il riscontro delle spese che sono effettivamente già state comunicate. Ovvio che in questo caso il paziente potrà capitarvi quello che dice ma io ho provato ad entrare, non ci sono le spese, non le hai comunicate. Grazie, se me lo dici a dicembre, magari le mando a gennaio, ancora non ci sono, ma non vuol dire che non ci saranno. Loro in realtà avrebbe un senso che lo facessero dopo che la scadenza è passata, quindi la scadenza ultima del 31 gennaio vuol dire durante il mese di febbraio e chi vuole entra con le proprie credenziali e va a selezionare le spese che non vuole che vengano conservate. Non è che dovete spiegargli tutte queste cose, devono saperlo loro per, diciamo così, cultura comune, mettiamola così, non importa, non avete l'obbligo di informarli, ve lo dico perché almeno sapete che hanno comunque la possibilità di intervenire a tutela della propria riservatezza e di quindi andare a fare la cancellazione dei dati che voi avete dovuto necessariamente trasmettere perché prima del 14 novembre, ricordiamolo, non possono fare opposizione e quindi la trasmissione voi dovete farla in ogni caso. Il diniego alla trasmissione, abbiamo detto che va manifestato a cura del paziente e quindi, lo sottolineo, il soggetto inviante, voi, non deve chiedere consenso alla trasmissione, cioè voi non è che dovete dire guardate che adesso, caro paziente, io adesso trasmetto i dati, lo deve sapere di suo, vive in questo paese anche lui. Quindi, aggiungo, può essere opportuno, ma io dico è proprio un problema di sensibilità personale, non di obbligo normativo, può essere opportuno comunque informarlo. Allora cosa faccio? Integro l'informativa della privacy, trovo una soluzione banale perché sembra che sia un problema trascendentale quello di informarlo. Integro l'informativa della privacy andando a indicare nella informativa anche che c'è questo nuovo obbligo e che quindi i suoi dati verranno trasmessi, salvo che lui non voglia fare opposizione alla trasmissione. È una soluzione tutto sommato semplice, è ovvio che vuol dire che vado a integrare l'informativa privacy e che quindi magari sono costretta a far rifirmare le informative che ho già fatto firmare a suo tempo. Va bene, però insomma è una cosa che nel giro di qualche mese ho messo a posto. Se non ho voglia di fare neanche questo, preparo semplicemente un'informativa, una specie di locandina, la figo in studio e gli ho informati lo stesso. Quindi, voglio dire, le soluzioni pratiche ci sono, non facciamo il problema più grande di quello che è. No, tutto sommato arriviamo facilmente ad informare il paziente se vogliamo informarlo, posto che comunque lo stiamo facendo per nostra sensibilità e senso magari deontologico, ma non perché abbiamo un obbligo in tal senso. Quindi anche questo è importante saperlo. E' l'appetitamento che è obbligatorio per il primo, fino a novembre, il 16? No, la trasmissione è obbligatoria. Non sono obbligata a informare il paziente che farò la trasmissione. Non ho nessun obbligo normativo di dirlo. Se uno ritiene che non sia corretto, mette in atto questa procedura, molto semplicemente. Per il paziente che sia opposto alla trasmissione, resta comunque sempre possibile inserire autonomamente nella dichiarazione dei redditi la spesa ai fini della detrazione. Questo vuol dire che non è che chi si oppone, perché magari qualche paziente ve lo chiede, dice ma non sa se opporsi o non opporsi, è lì in difficoltà. Allora dice ma poi non posso più detrare. Non è vero, non è che perché il dato non viene trasmesso che lui poi non può detrarlo. Dovrà andare a inserirlo lui nella sua dichiarazione dei redditi, molto semplicemente. Quindi questo magari a voi interessa poco, però giusto per saperlo se qualcuno, se qualche paziente vi chiede l'UMI in proposito. A proposito dell'integrazione dell'informativa privacy, io ho preparato un'integrazione all'informativa che trovate sul sito dell'Ordine. Quindi ancora oggi non c'è in questo momento sul sito, però insieme alle slide dell'evento di oggi troverete anche l'informativa aggiornata. È un'informativa aggiornata con la questione del sistema tessera sanitaria e con l'occasione io ci ho inserito anche l'integrazione dell'obbligo di comunicazione dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale. Anche quella, se vi ricordate, è entrata in vigore da diverso tempo. Non c'è una forma prevista per cui abbiamo l'obbligo di scrivere o farci controfirmare dal paziente di aver ricevuto l'informazione sul fatto che siamo assicurati per la responsabilità civile professionale. Però è ovvio che se io trovo la soluzione di inserirlo nell'informativa privacy, mi sembra una buona soluzione. Quindi a questo punto facciamo un giro di informative nuove, rifacciamo firmare al paziente le nuove informative e mettiamo le due indicazioni delle nuove normative entrambe in un colpo solo. Proviamo ad anticipare un po' le domande che sono venute fuori in questi giorni. Allora, questa prima ve l'ho già in realtà risolta. Cioè nel momento in cui uno studio associato deve fare la richiesta delle credenziali non lo può fare come studio associato perché lo studio associato di per sé non è accreditabile sul sistema tessera sanitaria, è solo il singolo. Però lo fa il singolo professionista legale rappresentante dello studio associato indicando la partita IVA dello studio associato ma il proprio codice fiscale, abbiamo detto, il proprio numero di tessera sanitaria. Togliamoci subito un dubbio perché tanti mi hanno detto, anzi tanti hanno dato per scontato che tanto non avendo una contabilità strutturata magari avendo un regime fiscale agevolato come regime dei contribuenti minimi o regime forfettario hanno detto ma io non devo farlo sono nei minimi eh no, devono farlo tutti cioè il regime fiscale a prescindere minimi, forfettari, regime ordinario contabilità semplificata, contabilità ordinario non importa, tutti devono farlo. Che importi indicare? Allora anche qui il 2% lo devo inserire o non lo devo inserire? Il bollo lo devo inserire o non lo devo inserire? L'IVA ovviamente parliamo di casi marginali perché se stiamo parlando di attività sanitaria di per sé esente non ci dovrebbe essere IVA però ci sono alcuni casi magari limite in cui può essere che la spesa sia considerata sanitaria detraibile fiscalmente quindi va comunicata ma è assoggettata ad IVA mi viene in mente il caso per esempio di relazioni certificative che vengono fatte per l'idoneità alla patente di guida al porto d'armi per chiedere pensioni di invalidità o di inabilità all'Inps in quei casi sono prestazioni che sono assoggettate ad IVA ma godono comunque della detraibilità come spesa sanitaria e quindi in quel caso però sono proprio questi i casi sono veramente casi limite è ovvio che la spesa che devo comunicare è la spesa sempre totale l'avevamo messo in grassetto prima complessiva compreso il bollo compresa l'IVA compreso il 2% sul bollo ribadisco va indicato se l'avete riaddebitato se ve lo siete fatto rimborsare dal paziente se non ve lo siete fatto rimborsare ovviamente no non è una spesa che ha sostenuto la logica è sempre quello che lui ha pagato facciamo qualche esempio ovviamente questa è una slide esemplificativa ci saranno milioni di esempi che a voi vengono in mente che io qua non ho inserito però quali sono le spese detraibili quindi qual è che vanno comunicate ovviamente tutto quello che è clinico consulenza psicologica e sostegno individuali e di gruppo non cambia assolutamente niente fatturazione diretta al paziente però vanno comunque comunicati esami psicodiagnostici somministrazioni di test se la somministrazione del test ha la finalità di individuare percorsi di cura psicoterapia individuale di gruppo di coppia familiare va bene uguale programmi riabilitativi e rieducativi compreso il trattamento di IDSA rieducazione funzionale di abilità cognitive e psicomotorie indagini e refertazione psicodiagnostica e fini pensionistici di idoneità alla guida di idoneità al possesso del porto d'armi direi che insomma comunque in questi bene o male rientra tutto allora qua io faccio una precisazione perché tanti in questi giorni mi hanno detto ma mi hanno fatto delle domande specifiche ne faccio una per tutte perché comunque mi è stata fatta più volte io faccio delle fatture mi dicono dottoressa dove scrivo che faccio training autogeno come tecnica di rilassamento è sanitaria io dico che ne so il problema è può essere sanitaria ma dipende intanto da che cosa hai scritto in fattura perché è fondamentale quello che hai scritto nella fattura perché è quello di cui rimane traccia se tu hai scritto consulenza psicologica oppure sedute di sostegno psicologiche utilizzando la tecnica del training autogeno è una spesa sanitaria però devo averlo scritto in questo modo e devo aver indicato l'esenzione IVA per la prestazione sanitaria perché vuol dire che l'ho voluta considerare una prestazione sanitaria se scrivo training autogeno punto e non scrivo neanche esente IVA articolo 10 numero 18 DPR 633 barra 72 allora insomma potrebbero dirmi che non è una prestazione sanitaria quindi attenzione e attenzione anche a chi ha regimi agevolati mi riferisco ai minimi ai forfettari e che ancora oggi nonostante l'ho spiegato milioni di volte sbaglia a fare le fatture e quindi non scrive esente IVA articolo 10 numero 18 DPR 633 barra 72 quando la prestazione è sanitaria ma scrive solo escluso IVA ex articolo 1 comma 100 legge 244 del 2007 perché è un minimo oppure escluso IVA ex articolo 1 e bla 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 perché è in regime forfettario allora cogliamo l'occasione una volta in più per ribadirlo chi ha un regime agevolato minimi o forfettari ha un'esclusione da IVA generalizzata benissimo l'IVA in fattura non ci va mai benissimo però se la prestazione è sanitaria va indicata anche l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie non cambia niente nei conteggi però vedete che adesso è un problema se non lo scriviamo perché non siamo in grado di dire che quella prestazione è sanitaria è ovvio che se è scritto psicoterapia è sanitaria lo stesso però la fattura non è stata fatta nel modo corretto perché non risulta la caratteristica tipica dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie quindi ricordiamocelo non è perché c'è l'esclusione da IVA generalizzata che mi fermo lì e non ho il problema di scrivere nient'altro nella mia parcella ho l'esclusione da IVA generalizzata non metterò mai l'IVA in fattura ma se la prestazione è sanitaria ci aggiungo anche la dicitura di esenzione IVA per le prestazioni sanitarie se ho il blocco delle ricevute sanitarie che compro in cartoleria e le ricevute le faccio a manina guardate che quella delle prestazioni sanitarie l'esenzione per le prestazioni sanitarie è prestampata quindi è sufficiente vedete che so le domande prima che me le poniate altri dubbi che sono venuti fuori in questi giorni fattura intestata a soggetto diverso dal paziente va trasmessa la spesa indicando il codice fiscale dell'intestatario della fattura sarebbe buona norma che corrispondesse l'intestatario della fattura con chi ha fruito della prestazione però e faccio un esempio per tutti che è quello dei minori che è il più frequente spesso succede di vedere ancora anche se io ho detto milioni di volte che non è opportuno farlo la fattura intestata al papà per la prestazione del figlio Mattia ok non è sbagliato ma non è neanche giusto la fattura va fatta al minore il minore ha un suo codice fiscale voi fate la prestazione al minore fate la fattura al minore è ovvio che non ha pagato lui pagherà la mamma il papà o chi per esso poi quando il mamma il papà o chi per esso hanno la fattura in mano decidono cosa farne la scarica la mamma la scarica il papà al 50% al 30 tu al 70 io fanno quello che vogliono ma voi avete fatto la fattura e non vi chiedono di cambiarla perché poi quando fanno la dichiarazione di redditi scoprono che forse era meglio intestarla al papà piuttosto che alla mamma e fanno un casino incredibile voi in ogni caso la intestate al minore e siete tranquilli ovvio che il dato va comunicato col codice fiscale del minore in quel caso se la fattura è intestata al minore la trasmissione della spesa va fatta col codice fiscale del minore niente di strano non farà la sua dichiarazione dei redditi ma non vi preoccupate che confluisce in quella della mamma o del papà non c'è nessun problema nel caso in cui voi aveste invece fatto la fattura intestata al papà o alla mamma e nel corpo della fattura ci troviamo la prestazione resa al minore va bene ormai l'avete fatta così e mandate il dato con il codice fiscale del papà o della mamma cioè l'intestatario della fattura perché è solo l'intestatario della fattura che può scaricare la spesa altro esempio ancora pensiamo ad una fattura che è stata pagata in tutto in parte da un fondo da un'assicurazione nella vostra professione non è così frequente però può capitare diciamo che può capitare che ci siano delle convenzioni dirette per cui magari voi fate la fattura ad un paziente e in parte ve la paga lui e in parte la paga il fondo l'assicurazione voi dovete trasmettere la spesa per intero cioè dovete anche qui guardare semplicemente l'intestazione della fattura stando tutt'al più attenti solo al problema del principio di cassa perché in questi casi succede tante volte che dico tanto per fare un esempio il paziente anticipa il 30% e il fondo salda il 70% ovviamente non lo salda il giorno stesso lo salda un mese due mesi tre mesi dopo se sforiamo di anno di imposta è ovvio che bisogna stare attenti a dividere la quota incassata in un anno con quella a saldo incassata nell'anno successivo a prescindere che l'abbia pagata al fondo l'assicurazione quindi in ogni caso va comunicata la spesa intera però attenzione alla data effettivamente in cui voi avete incassato il compenso ancora una fattura emessa nel 2015 è pagata nel 2016 avete ovviamente il documento con data 2015 caricate il documento con la data del 2015 benissimo la data del pagamento è 2016 e parte con i dati del 2016 fattura emessa nel 2016 ma non pagata nel 2016 quella non parte con i dati del 2016 quindi partirà nell'anno in cui effettivamente il pagamento avverrà se avverrà se per assurdo non viene più pagata non partirà mai non sarà mai comunicata non è che ci deve essere una sequenzialità nelle fatture non c'entra niente con la contabilità con la cronologia dei documenti in mezzo alle vostre fatture dei pazienti potreste avere anche delle fatture che non vanno proprio trasmesse o perché c'è l'opposizione o perché non è un'attività sanitaria o non è un problema non ponetevi questo problema è un problema che non esiste ancora può essere che ci troviamo nel caso di una fattura emessa nel 2016 ma pagata nel 2016 solo in parte cioè avete ricevuto un acconto allora questa andrà trasmessa nel 2016 solo limitatamente all'acconto pagato poi il saldo lo comunicherete nel 2017 se viene pagata nel 2017 è ovvio che cosa succederà che caricate due volte lo stesso documento solo che l'importo sarà un importo prima dell'acconto e poi del saldo quindi scriverete non vi ponete il problema ma ho già caricato questo numero di documento con questa data l'anno scorso sì però se non l'avete caricato nell'intero perché avevate ricevuto solo un acconto adesso è normale che ricaricate lo stesso documento con la stessa data e lo stesso numero indicando una data di saldo diverso e un importo diverso che quello del saldo quindi alla fine il conto tra le due comunicazioni in ogni caso torna e non è un problema se la fattura è stata emessa a un soggetto residente all'estero non va trasmessa perché tanto ovviamente non fa la dichiarazione per compilata è il problema quindi non si pone quanto ai suggerimenti di carattere pratico io ve li ho già anticipati però fondamentalmente secondo me sono solo questi due non ne vedo altri allora conservazione della copia della tessera sanitaria che vuol dire del codice fiscale sappiamo che alla fine è la stessa cosa dei pazienti una bella foto da tenere in archivio per le verifiche del caso e l'integrazione dell'informativa privacy con la menzione del nuovo obbligo direi che quando abbiamo adottato queste accortezze tutto sommato siamo già a posto l'altra cosa forse è da un po' programmare pianificare però questo lo potete fare con un po' di calma quando avrete ottenuto le credenziali e quindi capite quanto tempo si perde effettivamente a fare questo addempimento sarà quella di eventualmente per il 2017 organizzarvi in modo da fare la trasmissione di volta in volta una volta al mese insomma a seconda della numerosità magari delle fatture che ognuno ha da trasmettere per non trovarsi a fine anno con tutto da caricare in un'unica volta perché poi capite bene che comunque è un portale a cui accedono migliaia di persone e quindi è ovvio che se poi vi mettete tutti negli ultimi giorni a fare il caricamento dei dati gli errori di sistema saltano fuori per forza di cose quindi bisogna anche magari un po' farlo per tempo due parole due perché a me non piace fare terrorismo sulle sanzioni ma insomma ci sono e quindi se no se non ci sono le sanzioni qua tutti escono e dicono ma chi se ne frega non c'è sanzione io faccio a meno in realtà le sanzioni ci sono guardiamo quali sono e vorrei dire guardiamole anche con serenità anche se la prima riga è un po' allarmante perché uno dice che serenità che serenità devo trovare allora diciamo che è la seconda riga che ci rasserena mettiamola così nel caso di omessa tardiva e errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro e questo mi rendo conto che è abbastanza allarmante lo è anche per me quindi insomma capisco anche perché per ogni comunicazione io ho cercato anche nella norma di capire che cosa si intende per comunicazione ma credo che dobbiamo assolutamente intendere per ogni fattura perché se no ai 50.000 euro non ci arriviamo mai no vabbè però c'è un però nei casi di errata comunicazione questo è il testo della norma nei casi di errata comunicazione la sanzione non si applica se i dati corretti vengono trasmessi entro i 5 giorni successivi alla scadenza e fin qua uno dice sì ma se me ne accorgo 10 giorni dopo ok allora andiamo avanti ovvero in caso di segnalazione da parte dell'agenzia delle entrate che mi scrive mi dice guarda che hai sbagliato non mi trovo con i dati che hai comunicato in caso di correzione entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa quindi quello che vorrei darvi solo come segnale di allerta è se l'agenzia delle entrate vi scrive qualcosa a proposito del sistema tessera sanitaria non dormiteci sopra perché 5 giorni passano veloci ok però sapete che se sistemate nei 5 giorni non c'è sanzione quindi insomma da questo punto di vista dico possiamo anche stare abbastanza tranquilli in conclusione vediamo quali sono queste novità sullo spesometro che sono state così messe nella coda del provvedimento un po' come darci un contentino per dire sì vabbè dai vi abbiamo messo un nuovo addempimento però ve ne togliamo un altro allora intanto che cos'è lo spesometro perché magari non a tutti è chiaro lo spesometro è un altro addempimento annuale che viene fatto da chi è titolare di partita IVA chiunque soggetto titolare di partita IVA non è una prerogativa degli psicologi è una prerogativa dei titolari di partita IVA fortunati loro che non abbiano regimi fiscali agevolati perché chi è in regime dei minimi o regime forfettario se ne disinteressa e non ha nulla da fare ma gli altri devono una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno comunicare all'agenzia delle entrate in forma aggregata non aggregata ci sono varie modalità tutti i dati relativi ai le fatture emesse e alle fatture di acquisto spese ed entrate quindi e quindi già qua mi viene da dire consentitemi di aprire una parentesi ma chi mi dice ma io comunico i dati dei miei pazienti li comunicavo già cioè i dati dei pazienti li stiamo comunicando da anni con lo spesometro ed è un obbligo di legge non è che loro neanche si possono opporre a quello tanto per capirci allora cosa ci hanno detto che per i contribuenti soggetti all'obbligo dello spesometro è escluso l'invio con lo spesometro dei dati che abbiamo già trasmesso col sistema tessera sanitaria attenzione però perché allora si pone un problema e cioè quando faccio lo spesometro devo preoccuparmi di mandare comunque i dati di chi ha fatto opposizione perché non li ho mandati col sistema tessera sanitaria devo mandare i dati che non ho comunicato perché non rientravano nell'obbligo di trasmissione devo stare attento anche ai dati che non ho comunicato per problemi di scavallamento danno la fattura è messa nel 2016 incassata nel 2017 non l'ho comunicata per il 2016 con il sistema tessera sanitaria e quindi andrà nello spesometro non è che non va perché tanto lo comunico nell'anno dopo per esempio e poi comunque dovrò mandare tutti i dati relativi agli acquisti anche se faccio solo prestazioni sanitarie non manderò i dati relativi alle fatture che io emetto però quelli degli acquisti sì allora se volete che vi dica la verità vera qual è è che tanto lo spesometro non lo mandate voi lo manda il vostro commercialista e il vostro commercialista che cosa fa? dice ma siamo pazzi adesso mi metto qua a selezionare questo sì questo no ma manda tutto che va bene lo stesso ma a vostro beneficio perché se no ci mette una vita a fare questo lavoro che vi costa ancora di più quindi non c'è l'obbligo di trasmetterli perché li ho già trasmessi però di fatto se li trasmetto li trasmetto una volta in più e non succede niente e probabilmente faccio prima quindi questa possono dire quello che vogliono però è ovvio che è una semplificazione di facciata grazie 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 a tutti